Bella a tutti rica, qui è Miro ed eccoci in qua in questo nuovo video Allora, non so se uscirà prima il video di Rogue o questo qua di Nandez Però sappiate che io ho registrato i due video uno appresso all'altro Quindi se mi vedete con la stessa maglietta è perché semplicemente li sto girando Ad una distanza di 5 secondi uno dall'altro Quindi ecco qua il motivo Qualora le ufficialità avvenissero in due giorni diversi ovviamente E di cosa vogliamo parlare? Di cosa vogliamo parlare? Io regà, aspettate vi devo far vedere una cosa Vi devo necessariamente portare con me perché Ve la devo far vedere Aspettate Toccava piano Toccava molto piano L'agente Lorm Allora Allora Io da quando ho saputo che Nandez E' praticamente diciamo quasi cosa fatta al Cagliari Sono impazzito per lui Perché Sono proprio impazzito Sono diventato frocio per lui Sono diventato palesemente frocio per lui Ed è allucinante Cioè io lo amo Non lo so E' un boro Però lo amo Così Proprio a gratis No dai Ro raga Cioè è spettacolare Io non vedo l'ora che arriva Tra i due Non vedo l'ora più che arrivi i Rog Cioè più che arrivi i Nandez Perché non lo so che cazzo Cioè mi ha fatto innamorare Ve giuro raga E' una cosa spettacolare E Non vedo l'ora che arrivi Anche lui Io per adesso sono rimasto al fatto che il Cagliari debba trovare una sorta di accordo con il Boga Però nella notte è uscita una notizia che da Che da la cosa perfatta E che il Cagliari dovrà sborsare 18 milioni Non mi pare vero Non mi pare vero tutto sinceramente Perché non Sentire la frase Il Cagliari che paga uno 18 milioni A meno che non stai su Football Manager E non stai in una fase avanzata di carriera E' una cosa che fa fatica Cioè ti fa strano un po' sentire E invece sta succedendo Sta succedendo Complimenti Complimenti al Cagliari Complimenti alla dirigenza Veramente Un calciomercato da sogno Veramente un calciomercato da sogno Perché con quei soldi e con i giusti investimenti Si potrebbe veramente raggiungere Un traguardo Che viene chiesto ultimamente a gran voce A cui Mi sono sempre Da cui mi sono sempre staccato Perché non Non ho mai chiesto che la società Mi portasse in Europa League Però adesso è impossibile non unirsi Perché questo è Un mercato D'Europa League Questo è Decisamente Un mercato D'Europa League E E quindi sono contento di questo Perché la cosa è palese Perché la cosa è palese E stiamo facendo Una squadra contro coglioni Mancano ancora alcune pedine Ovviamente Perché manca Un tersino sinistro Manca una seconda punta Però per adesso ci siamo rifatti il centrocampo E che centrocampo Porca troia E c'è ancora la La probabilità di Nainggolan Che secondo me è quella più remota Perché non credo Possa ritornare al Cagliari Causa ingaggio Non credo proprio Però comunque c'è la probabilità La suggestione ecco La parola giusta che infatti è suggestione Che Nainggolan Possa tornare al Cagliari Però Cioè se pure Se torna pure lui Fermateve Fermateve Diventa illegale Questo Cagliari Diventa veramente illegale Però Dai Anche così va benissimo Veramente benissimo Cioè Nandez e Rog a centrocampo Si potremmo pure permettere Mette Ionita in panchina Spettacolare Veramente spettacolare Dairo Manca solo Un tersino sinistro E una seconda punta De De Frey Non si sa più niente Non si sa che fine ha fatto Mi pare di aver visto Che il Cagliari Si sta ributtando le terre Ma voglio sapere Che io lo pago In Gadgeter Ma quando lo prendi Vabbè Fatemi andare Che mi devo andare A lavare i denti Che c'è una fiatella Mamma mia E niente Il video finisce qui Fatemi sapere Qui sotto nei commenti Cosa ne pensate Di Nandez E di questo calciomarcatore Del Cagliari E noi ci becchiamo In un prossimo video Bella